Qui, a Corsi.it, pensiamo che gli imprenditori abbiano la capacità di cambiare il mondo, con le loro idee, la loro visione, ma soprattutto con la capacità di mettere in atto quelle idee. Ma siamo sicuri al 100% che affinché gli imprenditori possano cambiare il mondo, devono necessariamente circondarsi di validi collaboratori, perché nessuno può fare grandi cose da solo. E se l'imprenditore ha il merito di far partire l'impresa, sono i collaboratori, che insieme all'imprenditore portano avanti la visione e la trasformano in realtà. Dunque, che tu sia un imprenditore, un manager o il collaboratore di un'azienda che desidera produrre un impatto positivo intorno a sé, in questo corso stai per scoprire quali sono i tratti tipici del pensiero imprenditoriale. E lo scoprirai non attraverso noiosi trattati teorici, ma direttamente dalle parole e dall'esperienza di chi ha fatto impresa nella vita vera. Quindi, se sei un collaboratore dentro un'impresa, alla fine del corso essenzialmente scoprirai dove focalizzare la tua attenzione per contribuire in modo più efficace allo scopo dell'impresa. Questo vuol dire non solo che con ogni probabilità farai carriera più velocemente, ma vuol dire anche che diventerai molto più efficace nel portare a casa qualsiasi impresa, anche privata, tu voglia realizzare nella tua vita. Dal progetto di vita familiare allo sport, a qualsiasi altra cosa, ma soprattutto vuol dire che imparerai a vivere il lavoro in modo più soddisfacente, proprio come solo qualcuno che è consapevole che sta contribuendo a realizzare qualcosa di grande può fare. E dall'altro lato, invece, se sei un imprenditore o un manager e avrai l'umiltà di imparare da chi ha sbattuto la testa sui problemi prima di te, scoprirai delle vere e proprie perle preziose che potranno risparmiarti enormi grattacapi e farti progredire nella tua visione molto più velocemente. Perché spesso non serve reinventare la ruota da zero e se qualcuno mette dei cartelli segnaletici sulla tua strada, le buche e gli incidenti di percorso si possono evitare più facilmente. Sei pronto dunque ad accrescere il tuo livello di mente imprenditoriale scoprendo spunti ed esperienze da chi l'ha già fatto prima di te. Bene, allora seguici nel corso.